Siamo con Vincenzo Di Capo a play del BCC Basket a Gnopoli. Domenica contro il Corato si è uscito per 5 falli. Secondo me è stato un errore all'arbitrale o no? Sì, vabbè, diciamo che domenica è stata una partita molto condizionale dell'arbitraggio. Permettevano un gioco molto maschio alla squadra oscola, di noi poco e niente. Ho peccato anch'io un po' di foca, eccessiva foca, perché in quel momento magari non mi sono reso conto che avevo 4 falli, quindi forse era meglio starsene buone, diciamo, però sono cose che comunque capitano con un parco del gioco. Domenica arriva il Rieti. Vittoria per cancellare il Corato. Sì, 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 sicuramente ci teniamo a riprenderci il fattore campo. Noi in casa abbiamo perso poco e le partite che abbiamo perso, a parte Martina Franca, su cui c'è qualche rammarico, il resto sono partite comunque che sapevamo difficili. Quindi adesso arriva Rieti, una squadra comunque ben attrezzata, e noi ce la metteremo tutta per portare a casa i due punti. Grazie al Play di Castellammare di Stato. Grazie.